Abbiamo qui il segretario provinciale della CGL, Giovanni Timoteo, le chiedo per quanto riguarda il tavolo istituzionale che voi volete far proseguire, volete creare, volete far funzionare effettivamente, come procedono le cose? Beh insomma adesso siamo a una settimana sostanzialmente da quando abbiamo lanciato questa proposta, siamo fortemente convinti anche alla luce dell'iniziativa che ci sta oggi che è una proposta che deve andare avanti perché oggi è un evento straordinario perché sono due consigli comunali che si mettono insieme per la prima volta e provano a collaborare, a mettere in capo un po' le sinergie per rispondere a un'esigenza vera che ci sta nei due territori, però insomma noi dobbiamo ricordare che il territorio è un territorio provinciale e quindi significa che il tavolo istituzionale serve adesso a far sì che quello che magari qui viene oggi deciso, viene in qualche modo anche sostenuto e si consolida questa proposta delle due idee di secondo livello sia in qualche modo anche una consapevolezza, una decisione di tutti i territori. Quindi il tavolo istituzionale noi sicuramente insomma ne ragionavamo prima, nei prossimi giorni inviteremo appunto il sindaco a riunire il comitato distretto dei sindaci perché quello è quello che abbiamo in qualche modo individuato e che abbiamo convenuto in quell'iniziativa che è il tavolo sul quale proseguire. Invece per quanto riguarda il referendum, lei come la vede questa situazione? Il referendum sull'ospedale Almazzini, noi abbiamo ragionato, abbiamo in qualche modo detto che quali potevano essere e dovevano essere i ragionamenti da fare che sono soprattutto dal punto di vista tecnico. Io se dovessi decidere, in pratica noi abbiamo detto che noi vorremmo che stai Almazzini ma in ogni caso siccome vorremmo un tema di secondo livello vorremmo essere anche rassicurati dai tecnici che questo è, senza questo supporto non riusciremo neanche noi a decidere. Quindi rassicurati per quanto riguarda poi l'utilizzo della stessa struttura del Mazzini? Assolutamente sì, quella è una struttura che deve essere resa fruibile per un secondo livello, ci devono essere gli spazi, le strutture e questo mi sembra che oggettivamente deve essere un ragionamento tecnico. Fare senza una discussione consapevole su come in pratica quella struttura può essere lì collocata, io penso che sia un limite fare un referendum, si riesce magari di decidere una cosa dove non c'è una consapevolezza diffusa.